Noi ci siamo resi conto che facendo una domanda così semplice e anche così grande come come ti immagini il tuo futuro, eravamo in grado di evocare, di alludere a tantissime questioni molto importanti, soprattutto potevamo guardare forse allo slancio, all'energia che c'era nella voglia di progettare, nella voglia di costruire. Una voglia di costruzione, di progettazione, di immaginazione che può essere individuale o collettiva. Nello stesso tempo questa domanda però nasconde altre cose, fa emergere inquietudini, ansie, paure, inerzia, quindi è una domanda che racconta tantissimo. E soprattutto facendo questo film, facendo questa domanda abbiamo molto spesso pensato anche a noi, noi adulti, insegnanti, genitori, al terreno che abbiamo un po' come posso dire messo, seminato in questi anni e su cui questi ragazzi si trovano a crescere. Grazie. Grazie. Grazie.